Il segretario provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano, ospite della trasmissione di Sud TV Fatti e Dintorni, è intervenuto sui temi politici più caldi riguardanti il territorio ed il centro-sinistra. Primo fra tutti la nomina d'assessore dell'ex coordinatore del PD di Battipaglia, Davide Bruno. La giunta francese è una giunta civica, che ci potesse essere un'interlocuzione tra la francese e Davide Bruno, a noi, come dire, già c'erano dei segnali in questo senso, c'è da dire che però Davide Bruno si è dimesso, si è stato dimesso, come dire, si è autodimesso, non lo so. Diciamo che insieme abbiamo deciso che la sua esperienza di coordinatore di circolo dovesse in qualche modo terminare e quindi è stato individuato un commissario che è Luca Sbroia. Perché aveva lavorato male o perché c'erano altre motivazioni? Ma non aveva più il riconoscimento da parte dei suoi iscritti e dei tesserati, che questo per un coordinatore di circolo, come dire, è il De Profundis. A seguire, la possibile candidatura di Franco Alfieri a sindaco di Capaccio, divenuta qualcosa di più di un'indiscrezione. Ovviamente Franco è un ottimo amministratore, un amministratore che quando è stato sindaco ha dimostrato di avere grandissime capacità amministrative. da consigliere del Presidente della Regione Campania, delegata all'agricoltura, e poi anche da capo staff, da capo della segretaria politica del governatore, ha dimostrato di essere, ha confermato queste sue capacità di, quindi avere grandi capacità di sintesi, di confronto con gli amministratori, con i cittadini e quant'altro. Forse anzi, come dire, Franco nasce come amministratore locale, cioè un amministratore di trincea che è capace di risolvere quei piccoli, grandi problemi dei cittadini che i cittadini possono avere giornalmente all'interno di una comunità, come quella di Agropoli, che poi in qualche modo è vicina a quelle che potrebbero essere, sono vicine a quelle che potrebbero essere le problematiche dei cittadini. Quindi a Capaccio è evidente che il Partito Democratico, se Franco dovesse accettare questa richiesta che proviene più dal territorio che da lui stesso, perché ovviamente forse lui ha delle idee, delle ambizioni differenti, se Franco dovesse in qualche modo cedere alle lusinghe del territorio e quindi accettare questa sfida, ovviamente il Partito Democratico, io come segretario provinciale, che come dire sono il responsabile di quello che succede, è evidente che per noi sarebbe una grande conquista.